Leopoldo io l'ho coinvolto nel 1967 in una impresa avventurosa della quale non ci siamo dimenticati, il Circolo Pickwick. Io avevo il problema di mettere insieme una distribuzione pseudo inglese e scelsi attori che non avevano nulla a che fare con l'iconologia inglesizzante così come era intesa in Italia. Infatti scelsi Guido Alberti, Gigi Ballista, Mario Pisu e Leopoldo per fare il quartetto dei soci del Circolo Pickwick che vanno in giro per l'Inghilterra combinandone di cotte e di crude. Leopoldo rifulse in questo contesto, lui è un inventore, lui oltre che uno straordinario attore è un autore, è un autore sul campo. E io gli dicevo, Leopoldo tu adesso improvvisa. Il personaggio era un poeta, il poeta Snodgrass e le tre battute di copione diventavano cento però con una vena inventiva straordinaria, cioè faceva lievitare questo personaggio. Da lì nacque un'amicizia saldissima che ormai dura da 40 anni forse, un po' meno. Sono passato dal teatro al cinema perché ho capito che era cominciato il cinema, spesso dopo l'amicizia con Fellini e che era l'arte probabilmente del secolo e che bisognava fare i conti col cinema. Non è stata un'avventura stupida perché se le donne non c'erano gli assegni, avrei guadagnato di più con i diritti d'autore probabilmente prendendo i... E poi le donne le poteva avere avuto meglio con le prime, magari internazionali all'estero, già avevo avuto esperienze in questo senso. Naturalmente ognuno ha i suoi punti di vista, no? Per esempio il professor Villari, più che sul concreto, è andato sui fatti regionali e da storico che ha una sua prospettiva. Insomma la somma di tutto credo che sia stata però alla fine riscattata forse, sembrerà strano, non tanto dalle immagini dei miei vecchi film perché purtroppo il sonoro era molto difettoso, si capiva pochissimo. Capolavori pochino sprecati però, pezzetti di capolavoro non per me, pezzetti per i registi che non diretti. E però verso la fine quella cosa pochino improvvisata e che dimostra che sempre improvvisata che mi è venuta con tanti sanguinetti forse ha chiuso in bellezza con l'applauso sincero del pubblico. Perciò forse bisogna concludere che preparare e preparare va bene e poi però è il caso che determina il caso e l'improvvisazione. Beh, Fellini stesso dichiarava, si firmò in una dedica, in un volume, il mercoledì sera, era l'unico di sì meno, non mi ricordavo passare il treno. Mi scrisse a Poldino Carlo, un amico di sempre, come scriveva lui, eterno amico, dal suo fatale traviatore Federico. Ma io lo rassicuravo perché sapevo che se no si avrebbe sofferto. In realtà non so come sarebbe andata l'unico, però devo dire anche una cosa, che quando io interruppi, io non sono riuscito più a conciliare cinema e teatro. Ero un po' in crisi perché avevo capito che lo stile teatrale, ormai c'era le scene lunghe, perciò con i dialoghi che si portavano per la lunga, c'era quella durata. Dopo il cinema, che se potevo lavorare con una battuta, con un'espressione anche muta, era tutto da cambiare. Ecco, ho intuito i tempi, questo sì. Perciò, tirando le somme, non so se... Forse esercitandomi avrei vinto questa crisi, avevo scritto delle cose buone. Però non è che lo posso sapere. Intanto, per quel poco che ho fatto, sono stata una meteora brillantissima. Per quel poco che ho fatto, come meteora, come posticino nella storia del teatro, ce l'ho. E come attore, anche se ho fatto anche ruoli, però mi sono legato al punto dei più belli film del secolo. Perciò la somma di tutto, in fondo, se faccio il pessimista, sarei unicosciente, e ho preso un tuorio, insomma. E' andata bene. La mia grande resta un sogno. Perché quando sono partito ero molto immaturo. Non capivo che lasciavo. Potevo diventare la rete di cura d'alvaro. Invece non capivo che era una terra meravigliosa. Quanto lo fosse. Capivo che era meravigliosa. Non capivo cos'era. Dopo, tornando, ho cominciato a scoprire sempre di più che lasciavo la più bella terra del mondo. Scilla. Ero di Scilla. Non la vedevo in prospettiva. Non potevo neanche, perché ero giovanissimo. Perciò rimane... Ma uno deve avere nella vita, forse, un mito. Da sognare, come qualcosa di non è. È stato completamente. E io ce l'ho. Vediamo a calabria.